buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere brevemente che cos'è il progetto oasis network ma soprattutto come andarlo a mettere in staking ovviamente dopo la sigla raggiungibile all'indirizzo oasis protocol.org partiamo con la quotazione di coin market cup come dico sempre il prezzo che vedete in sovraimpressione può variare a parte anche nell'arco di pochi minuti ma soprattutto da quando pubblicherò il video perché video come ben sapete li registro nel mio tempo libero per poi andare pubblicare nei giorni successivi attualmente nel momento in cui sta registrando hanno oscillazione negativa dell 8,50 per cento si attesta su un valore di mercato dello 0,41 centesimi di euro per quanto riguarda la classifica di coin market cup si trova anche 66 un totale supply di 10 miliardi di token si trova almeno 18 per cento quasi dal suo ath raggiunto il 15 gennaio pochi giorni fa di 0,52 centesimi di euro e più 1429 per cento dalla sua quotazione più bassa avvenuta il 26 novembre 2020 di 0,02 centesimi di euro ed è acquistabile su tutti i migliori exchange by nasco coin geta io beat finex tocco cripto con il list e tantissimi altri per quanto riguarda la token omics il 23,5 per cento è stato messo da parte per le ricompense dello staking 23 per cento agli sostenitori 5 per cento ai partner strategici e la riserva di valore 18,5 per cento alla community dell'ecosistema 10 per cento la fondazione 20 per cento ai contributori principali del network oasis è una blog chain proof of stake incentrata sulla privacy per la finanza decentralizzati dei data attualmente riesce a gestire mille transazioni al secondo focalizzata sulla privacy per quanto riguarda i dati sulla finanza decentralizzata finanza aperta la sua velocità la sua scalabilità e la sua sicurezza la renda ottimale per la creazione di applicazioni decentralizzate come abbiamo visto rose e l'utility token della blog chain essendo una prof of stake mettendo in stake rose si ha la possibilità di partecipare alla convalida dei nodi per ricevere le reward del caso come premio per far funzionare la cena e per aumentarne la sicurezza le sue funzionalità di privacy vanno a creare un tipo di risorsa che è chiamata tokenizing data dove consente agli utenti di assumere il controllo dei propri dati e guadagnare delle ricompense dello staking scalabile versatile e affidabile supporta carichi di lavoro paralleli contratti intelligenti riservati quindi smart contract riservati un efficiente design sono i punti focali di questo protocollo che lo rende altamente prezioso per quanto riguarda i partner di tutto il rispetto sono veramente tantissimi oasis network è attiva anche in diversi progetti universitari lo possiamo sempre andare a vedere nella home page e recenti annunci hanno avvisato la community della sua implicazione nel web 3.0 ovviamente ma soprattutto anche per quel che concerne il metaverse identità privata quindi sempre il focus incentrato sulla privacy per quanto riguarda le operazioni e l'utilizzo del metaverse inoltre i casi d'uso di questa block cene sono molteplici oltre al metaverse inizieranno a sviluppare dei protocolli anche per quanto riguarda il game in play to earn vediamo adesso sempre nella home page clicchiamo su technology e clicchiamo su wallet arrivati a questa schermata abbiamo la possibilità di creare due portafogli per andare a mettere in stake il nostro token rose e ricevere le reward possiamo cliccare sul web wallet oppure sull'estensione browser un po simile a meta mask clicchiamo sull'estensione e andiamo a creare il nostro portafoglio la lingua è disponibile e inglese oppure cinese clicchiamo su create wallet andiamo a inserire una nostra password nella schermata successiva appariranno le 24 parole segrete che vi invito a fotografare copiare e tenere al sicuro perché vi serviranno in caso di nepristano del wallet arrivati a questo punto clicchiamo su start e apparirà il nostro wallet di oasis network per poter operare all'interno di questo portafoglio bisogna ovviamente avere dei rose rose per quanto riguarda lo staking o valutare di scambio e rose per pagare le fee per rinviare rose semplicissimo basta andare qui alla voce account cliccare su copia spostarci poi all'interno del nostro binance se non avete un account registrato vi invito a cliccare sul link descrizione per avere uno sconto se le fisse volete registrarvi con il mio referral link in alternativa registratevi in autonomia prima cosa da fare ovviamente andare ad acquistare rose al momento degli usdt all'interno del mio wallet e quindi vado a scambiare rose con usdt clicco su mercato arrivati in questa schermata in alta destra dove c'è scritto cerca il nome della moneta scrivo rose oasis network clicco si apre questa schermata di trading dove la posso scambiare con la coppia rose usdt scelgo il quantitativo di rose da comprare o eventualmente il quantitativo di usdt da spendere in questo caso il cento per cento e vado a comprare 152 rose clicco su compra e in automatico mi entra l'acquisto a mercato dopo di che mi sposto su wallet wallet spot devo prelevare quindi in alto a destra cliccherò alla voce prelievo andrò a scegliere la cripto valuta di riferimento rose alla voce indirizzo vado a incollare quello che ho copiato prima l'indirizzo che ho copiato prima del wallet di rose in automatico vedete che baina se mi riconosce rose network l'indirizzo del portafoglio corrisponde invio il mio massimo prelevo e vado a inviare i miei fondi perfetto in pochi secondi i miei 150 rose sono arrivati all'interno del mio wallet ricordatevi che una volta che avete messo in staking i vostri rose per poterli prelevare bisogna fare la un staking e passerà 14 giorni di tempo prima di avere all'interno del wallet supponiamo di voler andare a mettere a rendita quindi staking i nostri rose clicchiamo su stiki aprirà questa schermata vuota perché siamo sulla pagina dei delle mie delegazioni del mio delegate dobbiamo andare a scegliere ovviamente i validatori quindi andare ad affidare i nostri rose a dei nodi per quanto riguarda la scelta dei nodi fate le vostre considerazioni potete scegliere un nodo con la minore commissione di gestione io consiglio di utilizzare un nodo col maggior numero di validatori e di token messi a rendita supponiamo di voler a delegare a bain a staking a questa schermata commissione 10 per cento abbiamo tutti i dati relativi a bain a staking clicchiamo su delegate andiamo inserire l'importo che vogliamo mettere a rendita teniamoci qualche rose per eventuali pagamenti di fi supponiamo di voler inserire 140 rose si clicca su next si accetta in questo caso 0 rose per quanto riguarda le fi di staking confermiamo normalmente ci vuole circa 10 15 minuti per avere i rose visibili in staking tenendo presente anche di delegare eventualmente un minimo di 100 cirose in su non una quantità minore quanto riguarda la tempistica attualmente si vede su my delegation che non è ancora presente la transazione ma se andiamo su wallet vediamo il ricevimento dei rose e rose che sono stati inviati per lo staking perfetto passato il tempo come potete vedere abbiamo in totale 150 rose validi per transazione prelievi 10 rose per chi ho messo indeligo da appunto 140 rose e se andiamo alla voce staking o la transazione eseguita e vedo che ho delegato 150 rosa bain a staking volendo prelevare quindi elevare dallo staking i miei rose devo cliccare su and delegate inserire il quantitativo di rose che voglio prelevare cliccare su un stake e confermare aspettare che savi la transazione e dopo 14 giorni avrò la possibilità di far ritornare i miei rose su bain a su qualsiasi altra change con lo supporta o eventualmente interagire con le future applicazioni decentralizzate ci di nuovo sul wallet come vedete operato dallo staking 140 rose mi rientreranno 139.999 per andare a vedere la staking di nuovo clicco su staking vedo che su my delegation non c'è nulla clicco su the bonding e vedo che i miei 140 rose arriveranno nel wallet tra 335 ore facendo il calcolo 335 diviso 24 sono le 24 ore di una giornata otterrò 14 giorni quindi i miei 140 rose che poi saranno 139,9 rientreranno nel wallet per essere utilizzati tra 14 giorni le ricompense per lo staking sono variabile e variano da circa un 20 25 27 per cento un consiglio che posso darvi è di mettere a rendita rose se avete intenzione di all dalla parecchio tempo e non volete essere tentati da speculare da fare trading sul vostro asset qualora riteniate rose un token da utilizzare come speculazione o da liquidare non appena il valore di rose ha raggiunto i vostri target price vi sconsiglio di metterlo in staking per il motivo che se rose avesse mai un pump per svincolare i nostri token avremo bisogno di un 14 giorni di attesa impossibile di poterlo vendere durante un pump prima di andare a delegare rose all'interno di questo wallet vi invito a cercare eventualmente altri sistemi altre piattaforme che vi possono eventualmente dare una rendita anche maggiore rispetto al 20 25 per cento che vi può dare questo tipo di validazione bene siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento spero come sempre che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile mi raccomando non sono consigli finanziari prendeteli per piacere come video educativi fate sempre le vostre ricerche non basatevi su quello che vi dicono in giro su quello che vi dicono su youtube e neanche su quello che vi dico io prendete spunto degli argomenti fate le vostre cerche le vostre riflessioni e poi agite di conseguenza con l'entrata o meno sul mercato mi raccomando questa è una cosa veramente importante se non siete iscritti al canale vi chiedo gentilmente di unirvi a questa community iscrivendovi al canale supportando il mio lavoro se avete bisogno di assistenza veloce abbiamo anche una community telegram che vi lascio il link in descrizione a chi volesse una community organizzata divisa in settori abbiamo aperto anche il nostro canale discord e ve lo lascerò in descrizione ciao a tutti